ragazzuoli io guardate in cuor mio lo sapevo che sarebbe andata a finire così infatti mi ero già proprio psicologicamente preparato a questa notizia che tanto voglio dire no ormai nel senso bisogna sempre prepararsi al peggio sperando che poi le cose vadano un pochino meglio ma dato che ormai il periodo della juventus è questo qui se pensi che una cosa possa andare male andrà così infatti io nel dubbio a sto punto permettetemi però di invitarvi a scaricare one football per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le notizie legate al mondo della juventus anche se in questo periodo qui non sono proprio meravigliose perché noi giustamente abbiamo sperato fino all'ultimo ci abbiamo creduto fino all'ultimo entra invece poi puntualmente per l'ennesima volta il tampone di cristiano ronaldo è risultato positivo quindi nonostante la speranza che si era aperta ormai una settimana fa sperando nel tampone negativo a 24 ore prima della partita che avrebbe dato la possibilità a ronaldo di essere presente nel famigerato scontro messico contro ronaldo niente niente a posto così a posto così va bene basta ancora ancora positivo l'unico cristiano positivo per più di due settimane da sintomatico va benissimo così di solito no si spera quantomeno che sia un pochino più veloce la ripresa per coloro che non hanno sintomi come effettivamente era il caso di ronaldo basti vedere appunto meccaniche è stato trovato positivo mi pare uno barra due giorni dopo ed era già a disposizione per la partita contro il verona non ha giocato perché magari non aveva minuti nelle gambe piuttosto che scelta tecnica bla 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 però potenzialmente era a disposizione e a me sarebbe piaciuto quanto meno avere una possibilità del genere per quanto riguarda cristiano ronaldo perché magari è vero anche se fosse risultato negativo dici vabbè però comunque nonostante magari si sia allenato anche 12 ore al giorno a casa un discorso è però essere subito titolare presente giocare contro il barcellona dopo che appunto per due settimane non ti sei allenato con la squadra quindi sicuramente allenamenti di altro tipo non hai messo minuti nelle gambe per ritrovare quella condizione che probabilmente non ce n'era neanche bisogno però capite quello che voglio dire contro il verona invece nel dubbio proprio niente a me sarebbe piaciuto a meno avere il dubbio sì ma adesso ronaldo giocherà titolare non giocherà comunque subentrerà giocherà poco per poi uscire nel dubbio è non c'è quindi ti togli tutti gli altri dubbi magari no in caso di tampone negativo si sarebbero potuti aprire diverse linee di pensiero diverse riflessioni perché sforzarsi c'era bisogno no è infatti appunto nel dubbio tampone positivo è speriamo a questo punto non lo so di recuperarlo boh per lo spezia per il ferren varos perché stando a quelle che sono mi pare le normative uefa se è positivo oggi non so se può esserci contro il ferren varos cos'è martedì mercoledì prossimo quello che va bene così va bene così tanto voglio dire c'è bisogno no pare di no e si vede il campionato poi non c'è assolutamente bisogno di uno come ronaldo ma va bene così è bisogna essere comunque sempre pronti a tutto e farsi trovare il più pronti possibile anche nei momenti di difficoltà e adesso vedremo che cosa riuscirà a tirar fuori pirlo dalla partita di domani perché oltre a ronaldo e insomma anche la dietro la situazione non è proprio delle migliori tra bonucci chiellini delit che va bello sappiamo alexandro che va bello sappiamo però insomma la dietro già hai abbastanza difficoltà senza cristiano ronaldo contro il barcellona probabilmente la davanti nonostante tu abbia a disposizione diversi uomini sicuramente è una roba diversa però di si sa che purtroppo questa stagione da questo punto di vista va così che poi per carità alla juventus da questo punto di vista non va neanche tremendamente male di fatto il positivo è uno però in compenso è cristiano ronaldo che dice vabbè tra tutti e poi tra tutti gli asintomatici che rimangono positivi per più di due settimane è quanti al mondo 12 13 tra cui cristiano ronaldo età biologica di 20 anni però è nel momento del bisogno intanto ancora è positivo ma va bene così c'è per carità la salute è decisamente più importante e asintomatico già va bene così che si riprenda con calma con con i suoi tempi ci mancherebbe altro ci sono delle priorità abbastanza importante juve barsa a livello di priorità però penso che la salute sia un tantinino più importante e di va bene così io lo ribadisco avevo già metabolizzato il fatto che molto probabilmente ronaldo non ci sarebbe stato quantomeno nella mia testa era così questo si è verificato e va bene quantomeno ero già pronto ecco diciamo così ma avrebbe spiazzato di più il tampone negativo ecco mettiamola così ma vabbè questo è detto ciò ragazzuoli speriamo bene per domani io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao ciao Grazie a tutti.